Un cargo, pensate che si sarebbe schiantato in Siberia, c'è stato questo incidente aereo proprio ieri 3 novembre 2021 e nessuno si è salvato la pelle, purtroppo non c'è stato alcun sopravvissuto. Da questo incidente aereo che si è verificato ieri 3 novembre 2021, i soccoritori hanno trovato il luogo dello schianto del cargo che si chiama Antonov An-12, vicino proprio al villaggio di Pivo Varica, nella regione di Irkutsk. L'aereo della compagnia Grodno, una compagnia bielorussa in volo dagli Asusk a Irkutsk, è letteralmente scomparso dal radar, si stava avvicinando alla destinazione, ossia la Siberia orientale. Di ciò ci informano le autorità competenti, facendoci sapere che purtroppo non c'è stata alcuna persona che è riuscita a salvarsi la pelle. Tutti purtroppo sono morti, sono passati, idealmente parlando, a migliore vita, a migliore esistenza. Una vicenda questa che ha delle incredibili, che avrà ovviamente degli strascidi, oltre che per la Siberia, anche per quanto riguarda il territorio della Russia. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi, cari utenti di YouTube, iscrivetevi al canale Narrativo Italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto nei cari, al prossimo video.